Ciao ragazzi, siamo qui a Milano, c'è un parco bellissimo che vedete alle mie spalle, però purtroppo questo parco è minacciato dalla solita speculazione, vogliono creare un canale, non sfruttando i canali che già ci sono naturali, ne vogliono creare un altro e per fare questo vogliono tagliare tutti gli alberi di questo parco, comunque buona parte di essi, che comunque consentono ovviamente un'atmosfera più pulita, uno spazio per i bambini, noi siamo venuti qui a trovare gli attivisti che si stanno battendo per questo e tutte le associazioni per evitare questo scempio, siamo vicini a loro e combatteremo anche per salvare anche questo pezzo di terra dalla speculazione. Ciao ragazzi, vinciamo noi!